Oggi la Corte Costituzionale si trova di fronte ad una responsabilità enorme. Qualcuno dirà, ma in fin dei conti di che cosa si tratta? Si tratta soltanto di decidere su un referendum abrogativo presentato da una forza politica, la Lega, che mira a fare i propri interessi di partito. Ecco, io credo che questa sia una lettura sbagliata e che viene fatta proprio dai media e dall'opinione pubblica o meglio dai media per influenzare l'opinione pubblica e per influenzare i giudici della Corte. Non c'è dubbio, questo resferendum è stato presentato, è stato studiato da Roberto Calderoli e quindi dalla Lega, ma non ha un interesse partitico. A cosa mira, infatti, questo referendum? Mira semplicemente a dare un sistema elettorale di tipo maggioritario. Non si tratta di dare il potere forte ad una persona, ma di fare quello che esistono in altri paesi, cioè di garantire la rappresentatività, ma anche la governabilità. E questo processo del maggioritario non è un processo nuovo, è un processo che comincia in Italia negli anni 90. Ora la Corte che cosa si trova di fronte a decidere? Si trova sostanzialmente di fronte a decidere se dire di no a un processo che continua definitivamente, dire di no ad un processo iniziato negli anni 90 per cercare di portare un po' di governabilità a questo paese e quindi dire di sì ad un sistema proporzionale che garantirà soltanto gli interessi, questi sì, di tutti i partiti che attualmente sono al governo e che si stanno formando. Dire di sì a tutti i partitini. Sì, la soglia di sbaramento è quel che si vuole, ma andremo di fronte ad una situazione di totale ingovernabilità. E' questo che la Corte vuole? La Corte oggi non decide su Calderoli, non decide sulla Lega. La Corte oggi decide sul futuro della governabilità di questo paese. Questo non ve l'ha detto nessuno. Questo non lo trovate scritto sui giornali da nessuna parte. Perché? E' perché hanno paura. Hanno paura che la Corte possa effettivamente riflettere su questo e possa rendersi conto che non ammettendo quel referendum significa restituire il paese a quella situazione di ingovernabilità che sarà caratterizzato da partiti che alla fine si metteranno d'accordo, partiti e partitini, senza avere la possibilità veramente di cambiare questo paese.